Tornano dalle ferie dopo la lettera che annuncia la cassa integrazione trovano l'azienda chiusa e con il lucchetto e oggi organizzano un presidio di protesta. Sono i lavoratori dell'Aidronic di Pero, azienda che produce ascensore. Si prevede un autunno caldo per le aziende lombarde tra il calo del fatturato e l'aumento esponenziale della cassa integrazione. Ci sono 17 mila i lavoratori che hanno perso il posto dall'inizio dell'anno. Mentre sono all'opera i lavori di restauro del Salotto di Milano, la Galleria Vittorio Emanuele, sono in arrivo nuovi bandi per gli spazi liberi e pieni più alti dell'ottagono e si pensa alle crisi della moda. Un anno fa mancava il Cardinal Martini che ha guidato la diocesi androsiana per 22 anni. Il sabato 31 agosto l'Arcivesco Scola presiederà in Duomo alle 17.30 alla celebrazione eucaristica vigilare in sua memoria. Buonasera, buonasera anche dalla TGN. Benvenuti a questa edizione che apriamo con il lavoro raccontando la storia dei dipendenti dell'Hydronic di Pero, che è un'azienda che produce ascensori. Ebbene, loro durante le ferie estive hanno ricevuto una lettera che preannunciava la cassa integrazione dell'azienda. Ieri sono tornati e non solo hanno trovato la cassa integrazione, ma l'azienda addirittura ha chiuso a lucchettata, sprangata. E per questo motivo oggi hanno organizzato un presidio ovviamente di protesta. Sentiamo Alberto Carreras. Rientro dalle ferie particolarmente amaro per i 30 dipendenti dell'Hydronic di Pero nell'Interland milanese, azienda che produce componenti idraulici per gli ascensori. Ieri, 26 agosto, era il giorno della ripresa lavorativa. Invece, la tragica sorpresa di trovare i lucchetti ai cancelli. Tutto fermo, tutto chiuso. Il 9 agosto, proprio durante le vacanze, l'azienda ha inviato ai dipendenti una lettera con la quale veniva annunciata la procedura di cassa integrazione straordinaria per cessazione dell'attività. Un fulmine a ciel sereno per tutti. Stamani i lavoratori hanno organizzato un presidio davanti allo stabilimento in via Vigorelli a Pero. L'intenzione dell'azienda è quella di chiudere i reparti di produzione, i magazzini e la logistica. Un piccolo nucleo di dipendenti viene trasferito a Gallarate e per 20 lavoratori lo spettro di dover rimanere a casa. Sì, è stata una vigliaccata da un'azienda associata a Confindustria. Una chiusura del genere fatta in questo modo non ce l'aspettavamo proprio. Voi dite che le cose, fra l'altro, vanno abbastanza bene, gli affari. Siamo partiti tutti per le ferie. Quando hanno lavorato a turni, fino all'ultima settimana di luglio, non c'erano problemi di cassa, di niente. Adesso ci troviamo questa raccomandata scritta durante le ferie. 19 di voi perderanno il lavoro e gli altri sono trasferiti a Gallarate. Già trasferiti a Gallarate l'amministrazione, perché? Perché il lavoro c'è. La produzione verrà fatta altrove? Sì, sì. La produzione è già parecchia, come dicevo, è esternalizzata. Adesso a questo punto voi che cosa chiedete? Beh, prima di tutto, essendoci un problema di metodo molto brutto e antipatico, quello che veniva definita prima una vigliaccata, chiediamo che si ritiri questa procedura, che si apre un confronto vero, sindacale, nelle sedi ufficiali, non nel periodo estivo, che porti effettivamente a capire quelle che sono le prospettive per questa azienda. E le prospettive in generale per i lavoratori lombardi non sono buone. In calo ci sono i fatturati, mentre aumenta la cassa integrazione, sia quella ordinaria sia quella in deroga, e aumentano purtroppo anche i licenziamenti. Sentiamo Paolo Pirovano. Se la situazione sociale in Italia è disastrosa, in Lombardia è drammatica, lo si deduce dai dati IMS rielaborati ogni mese dal Dipartimento Politiche e Contrattuali della CGL regionale. Rispetto al periodo gennaio-luglio 2012, quest'anno, i licenziamenti regolati per legge attraverso l'indennità di mobilità sono aumentati del 44,83% per un totale di 17.287 unità. In giugno e in luglio sono stati oltre 4.500. Nel mese di luglio 2013 si registra una crescita delle ore autorizzate di cassa integrazione del 2,67%, un aumento della cassa ordinaria del 12,19% e della cassa straordinaria del 38,71%. Se si prendono invece in considerazione i dati del 2012, l'ordinaria ha subito un aumento del 40%, la straordinaria del 69%. Allarme anche per la cassa in deroga. Per rifinanziarla da qui alla fine dell'anno serviranno altri 100 milioni di euro perché i 94, appena sborsati dal governo, finiranno tra poche settimane. Noi riteniamo che ci siano due problemi. Innanzitutto bisogna trovare risorse per mantenere gli ammortizzatori sociali. Non è pensabile che ci siano persone che escono dal posto di lavoro senza avere alcuna garanzia economica. Ma questo è indispensabile ma non è sufficiente. Devono essere adottate linee e misure che incentivino l'industrializzazione e rilancino l'economia. Misure di carattere finanziario, si deve dare sostegno alle aziende che investono. Bisogna trovare strumenti perché ci sia accesso al credito. Noi abbiamo tantissimi licenziamenti anche nelle aziende artigiane, nelle piccole e medie aziende che sappiamo essere quelle che hanno maggiore difficoltà nell'accesso al credito. E a proposito di crisi, adesso abbiamo sentito la CGL. La Confederazione Unitaria di Base, la CUB, insieme ad altre organizzazioni sindacali e sociali dell'area hanno proclamato uno sciopero generale di otto ore per venerdì 18 ottobre di tutti i lavoratori del privato e del pubblico impiego. Questo lo si legge in una nota in cui viene evidenziato che l'agitazione è indetta contro le politiche di austerità del governo Letta. Ora torniamo a parlare di Milano, degli abbonamenti della tram, gli abbonamenti ATM, che sono, parliamo degli aumenti che sono necessari anche per finanziare la linea 5 della metropolitana del Milano. L'assessore trasporti Marana ha detto non potevamo fare altrimenti, mancavano dei fondi, senza questi fondi appunto anche la linea 5, scusate Lilla, non sarebbe andata avanti. E i rincari comunque partono dal primo di settembre. Sentiamo Alberto Carreras. Non avevamo scelta, sottolineano da Palazzo Marino. Gli aumenti ATM sono necessari per incrementare un servizio sempre più importante per i milanesi e per i pendolari e per finanziare la nuova linea 5 della metropolitana. Così dal primo settembre scatteranno gli aumenti degli abbonamenti del trasporto pubblico. Il tesserino mensile passerà da 30 a 35 euro, quello annuale da 300 a 330 euro. Per il momento il biglietto ordinario resta 1,50 euro, ma già si ipotizza un possibile incremento di 20 centesimi. I giovani sotto i 26 anni pagheranno il mensile 22 euro e l'annuale 200 euro. Abbonamento gratuito per gli ultra 65 anni con reddito ISEE sino a 16.000 euro all'anno. Per gli altri l'incremento è notevole, da 16 a 30 euro per quello mensile. Milano non ha più tre linee metropolitane ma quattro, perché è stata aperta la linea 5 che ha dei costi di servizio molto elevati, circa 40 milioni di euro l'anno. Noi da quando abbiamo aperto la linea stiamo sottolineando al governo e alla regione Lombardia che cofinanziano il trasporto pubblico che non si può mantenere la stessa quota di trasferimenti visto che c'è una linea in più. Quindi abbiamo cercato di mantenere un sistema equo, comunque l'abbonamento mensile dei milanesi è il più economico di tutta Italia e di tutta Europa. Tuttavia non era possibile evitare questa manovra. Palazzo Marino ha fatto sapere che sono 2.600 gli abbonamenti annuali con il 50% di sconto ancora disponibili, destinati alle persone che fanno parte di nuclei familiari con almeno tre figli grazie a uno stanziamento municipale di 500 mila euro. Si aggiungono alle egevolezioni previste per disoccupati e precari per un totale di 1.700.000 euro. Stiamo cercando di studiare tutte le soluzioni per evitare il più possibile, anche vista la situazione economica generale, che i costi della nuova linea 5 ricadano a tutti i suoi cittadini. Questo dunque a proposito della linea 5, la linea Lilla della metropolitana, ma c'è una notizia che riguarda anche la linea 4, perché fa un passo avanti il progetto per la linea 4 del metro milanese. Oggi hanno spiegato il vice sindaco Ada Lucia De Cesari, l'assessore ai trasporti che abbiamo appena sentito Maran, si è conclusa positivamente l'istruttoria precipe sul progetto definitivo e sul finanziamento della M4. In un clima di collaborazione costruttiva, dicono gli assessori, tra Stato, Regione e Comune, e quindi in piena attuazione degli obiettivi del decreto del fare. Ora, dopo il parere positivo sul progetto, dicono De Cesari e Samaranna, non resta che la ratifica formale della decisione da parte del Cipe, per il quale si è in attesa della convocazione. Possiamo parlare di Milano, ma adesso lasciamo i trasporti e andiamo nel cosiddetto salotto di Milano, la Galleria Vittorio Emanuele, che si sta un po' rifacendo il look. Sono in arrivo nuovi bandi, anche per affittare spazi liberi ai piani alti dell'Ottagono, stanze che fanno gola, ovviamente, al griff della moda. Ma se entro il 2015 tutto dovrebbe essere in ordine, la preoccupazione resta per le recenti infiltrazioni dei fregi dei porticati, appunto, su Piazza Duomo. Sentiamo Stefano Fumagati. L'assessore Benelli lo definisce un gioiello bellissimo. Entro il 2015 hanno di Expo, quando il salotto di Milano dovrà essere splendente. Un gioiello che, come tutti i beni di lusso, non sarà concesso a prezzo di favore. Gli spazi che il Comune ha recuperato nei piani alti dell'Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele saranno affittati con tariffe salate. I presumibili inquilini saranno le griff della moda che non vedono l'ora di poter allargare i loro negozi nei palazzi più prestigiosi della capitale del fashion. Abbiamo messo a bando alcuni spazi che si sono resi disponibili nelle parti alte della galleria, in particolare uno spazio molto grande sopra l'attuale autogrill che diventerà motta e un altro appartamento di 200 metri quadri. E poi stiamo cercando di intervenire per fare tutti i lavori che sono necessari. Innanzitutto per la messa in sicurezza e il ripristino delle parti ammalorate, i crolli di cui si è sentito, quindi stiamo investendo per mettere a posto tutte queste parti e possibilmente anche per rendere più belle ed attraente la galleria, sia attraverso le griff che in questo momento sembrano molto interessate a aprire degli spazi in galleria, sia attraverso una messa in ordine di tutto il complesso. Gli incassi degli spazi in galleria negli ultimi due anni sono più che decuplicati con politiche mirate a valorizzare in tutti i sensi le vetrine più in vista di Milano. Ma i benefici devono ancora dare i loro frutti, visto che crepe, infiltrazioni e piccoli distacchi d'intonaco sono da monitorare come per un malato grave. Il sindaco Pisapia vuole che entro Expo la galleria non abbia nemmeno un difetto e i nuovi bandi potrebbero dare le risorse per intervenire. Gli ingredienti ci sono tutti, salvo il tempo. A meno di due anni dall'evento non si può più aspettare. La cronaca alla banda del buco in azione in via Mac Mahon a Milano, come nel film I soliti ignoti. Questa mattina infatti i ladri si sono introdotti in una tabaccheria al 104 di via Mac Mahon aprendosi un varco nella parete che divide il locale dalla portineria del condominio adiacente. Una volta entrati hanno fatto razzia di sigarette per un valore totale stimato tra i 6.000 e i 7.000 euro. Mentre è finito in manette un dipendente comunale che rubava nel cimitero di Baggio. L'uomo è stato colto in flagranza di reato. Si appropriava di vasi, anfore e altri oggetti presenti nelle tombe che poi rivendeva ovviamente all'esterno. Vediamo. Rubava all'interno del cimitero di Baggio. È stato colto in flagrante un dipendente comunale impiegato nello stesso Camposanto. L'uomo era stato da tempo segnalato ai vigili urbani che discretamente lo tenevano d'occhio. Le manette sono scattate ieri nel tardo pomeriggio, quando è stato colto mentre si impossessava di oggetti di bronzo e rame che poi rivendeva all'esterno a buon prezzo. Quando una salma veniva riesumata per il trasferimento nell'oculo, il dipendente si appropriava degli oggetti presenti sulla tomba, vasi, anfore e altri oggetti con sensibile valore commerciale. Normalmente questi oggetti di decorazione vengono smaltiti da una ditta che ha ricevuto l'appalto dal comune di Milano e che quindi deve procedere in base a regole concordate. La polizia locale ha anche perquisito l'abitazione del fermato per cercare di appurare da quanto tempo l'uomo si fosse dedicato a questa attività illecita. L'assessore Marco Granelli ha voluto sottolineare che si è trattato di un intervento che dimostra che il comune non fa distinzioni e quando è necessario bisogna essere inflessibili anche nei confronti dei propri dipendenti. Sempre Granelli ha annunciato che verranno attivate tutte le procedure disciplinari previste dalla legge nei confronti di questa persona. Ancora cronaca, hanno iniziato a circolare da oggi sulle strade della provincia di Varese e di Milano. Eccoli, vedete in questa immagine. Otto camion vela con l'avviso della taglia offerta dall'imprenditore Mirco Rosa, titolare di un'attività di compravendita di oro usato, per la cattura dell'uomo che lo scorso 3 agosto ha ucciso la commerciante Mariangela Granovelli a Saronno, in provincia di Varese. Sui cartelloni esposti sui camion, come vedete, compaiono tre fotogrammi dell'uomo ripreso dall'impianto di videosorveglianza installato all'interno del negozio, con la scritta ricercato per l'omicidio di una donna a Saronno e la taglia è di 50.000 euro per la cattura di questo assassino. Cambiamo argomento. Problemi ambientali di grave degrado in via Selvanesco a Milano, zona agricola sotto il vincolo del Parco Sud. Ovunque mini di scariche a cielo aperto, sporcizia e falò di rifiuti incendiati. Vediamo. Via Selvanesco è una piccola stradina tra i campi, collegamento secondario tra via dei Missaglia e via Ripamonti attraverso Cascina Cascinetta e Cascina Selvanesco Gaggiolo. Isolata periferica, luogo ideale per furbi e sporcaccioni che nel tempo hanno accumulato qua e là montagne di rifiuti, anche eternite e automobili, che a volte vengono perfino incendiati per buona pace dei residenti, frustrati, spaventati e indignati per la situazione. Una bidonville che nel tempo ha già ricevuto attenzioni da parte delle forze dell'ordine con due sequestre di area giugno, ma che di fatto non hanno, come si vede, stravolto la situazione. I residenti scrivono, denunciano, lamentano, ma i rifiuti si accumulano e le colonne di fumo denso e puzzolente proseguono. I vincoli del parco non consentono interventi troppo drastici, ma ora la situazione al limite ha fatto risollevare l'asticella dell'attenzione sull'area. Dalla provincia di Milano interviene l'opposizione con il PD e Roberto Caputo, che chiede che provincia e comuna di Milano intervengano insieme, il prima possibile per risolvere il degrado, in un'area di parco che rischia di restare segnata dalle infiltrazioni e di inquinanti nel terreno. E con l'IDV e il consigliere Luca Gandolfi, che ricorda interrogazioni di oltre due anni fa, dove già si sottolineava il problema e propone una delle variabili sul tavolo di discussione, ovvero l'installazione in via sperimentale di alcune telecamere per identificare e disincentivare coloro che compiono reati ambientali. Cambiamo ancora argomento. Un pranzo di solidarietà per 150 senza tetto e a servire i piatti saranno i VIP, i camerieri per un giorno. L'iniziativa è stata organizzata dai City Angels e offerta dai proprietari del locale ed è in programma il 4 di settembre. A servire in tavola i senza tetto ci saranno tra gli altri Michela Vittoria Brambilla, gli assessori di Milano, Maiorino Maran Bolognini della provincia di Milano, Franco De Angelis, Massimo Pagani, e mentre i testimoni alla dei City Angels, Stefano Chiodaroli, che è un cabarettista, Alberto Fortis, cantautore, Ivana Spagna, cantante, insieme all'economista Marco Vitale e allo stilista Elio Fiorucci. Voltiamo ancora pagina. L'arcivescovo di Milano, Angelo Scola, celebrerà una messa per ricordare il cardinale Carlo Maria Martini, che ha guidato la diocesi ambrosiana per 22 anni, dal 1980 al 2002, scomparso proprio un anno fa. Vediamo. Sabato, nel primo anniversario della morte, il cardinale Carlo Maria Martini verrà ricordato con una messa celebrata dall'arcivescovo di Milano, Angelo Scola. L'appuntamento è in Duomo alle 17.30. Nello stesso giorno, tutte le parrocchie e le comunità milanesi sono state invitate a ricordarlo. Il cardinal Martini è sepolto in Duomo sotto l'altare del crocifisso, nella navata sinistra, nella Milano, in cui ha trascorso 22 anni, al vertice della diocesi. Con la città e i suoi abitanti riuscì a instaurare da subito un rapporto profondo, tanto che nel giorno del decesso, il 31 agosto 2012, a Gallarate, nella casa dei gesuiti, una folla di milanesi si recò immediatamente in Duomo per ricordarlo. Entrò a Milano a piedi, il 10 febbraio del 1980, portando in mano il solo Vangelo. Durante i 22 anni del suo episcopato affrontò il tema del terrorismo, a lui i comitati comunisti rivoluzionari consegnarono il loro arsenale. Poi fu la volta di Tangentopoli, famose le sue omelie in difesa della giustizia. Istituì la cattedra dei non credenti, dove erano i non credenti a salire in cattedra, aprì le porte delle scuole di formazione politica e volle a tutti i costi la casa della carità. Sabato, la messa in Duomo verrà trasmessa in diretta da Telenova News, canale 664 del digitale terrestre, a partire dalle ore 17.25. Prima di chiudere questa edizione, vi anticipo i programmi della serata, perché a seguire il telegiornale, come al solito, andrà in onda Nova Stadio Sprint, condotto da Michele Marchetti. Questa sera con lui ci sarà Enzo Gambaro. Noi ci rivediamo invece per l'edizione notturna del TGN alle 23. Con questo è davvero tutto. Mi fermo qui, vi ringrazio per la vostra attenzione. vi ricordo che dopo la sigla e la pubblicità ci saranno le previsioni del tempo. Arrivederci.